Qualche giorno fa è uscita su Netflix la seconda stagione del Cuphead Show, e wow! Posso dire non solo di essere soddisfatto di quello che ho visto, ma azzarderei a dire che l'ho trovata addirittura migliore della prima. Avendola guardata in tipo tre giorni, anche se si può finire tranquillamente in un solo pomeriggio, ho letteralmente adorato quasi ogni episodio, per dei motivi che ora vi dirò. Ma prima di arrivarci, vi dico già che questo video non sarà diviso come al solito in due parti, perché onestamente non riesco a parlarne senza fare spoiler. Quello che posso dirvi è che, se voleste sentirmi parlare della prima stagione senza spoiler, ci ho già dedicato un video mesi fa, in caso lo trovate qui in alto a destra e in descrizione. Detto questo procediamo con il video, ma prima, come al solito, sigla! Perché nel titolo ho scritto che la seconda stagione è decisamente migliore? Beh, perché già dai trailer che abbiamo visto ancora prima che la stagione uscisse, c'era qualcosa che aveva attirato la mia attenzione e mi aveva fatto alzare l'hype, la presenza di numerosi boss nelle puntate. Finalmente! Nello scorso video avevo già detto che una delle pecche, secondo me, della prima stagione era la poca presenza dei boss, ma stavolta si sono fatti perdonare, considerando che molti episodi sono dedicati ad alcuni boss. Peccato però se volevate vedere Hildaberg, visto che appare letteralmente per meno di 5 secondi in tutti e 13 gli episodi. Prendiamo ad esempio Calamaria. A lei non solo è stata dedicata la puntata più lunga, ma appare persino in due puntate diverse. Bello inoltre come la doppiatrice italiana sia selvaggia a quattrini, non solo la stessa di Fiona di Shrek, ma pure di Ida di The All House. Il fatto poi che Brinybeard, che ancora non ho capito perché hanno tenuto il nome inglese quando in italiano sarebbe Barbabrina, si è innamorato di lei ha pienamente senso se ci pensate, considerando che lei è una sirena. Certo, che ha il potere di pietrificare, ma che comunque rimane una sirena. E le leggende dei pirati parlano sempre di come le sirene siano un pericolo, visto che sono in grado di ammaliare gli uomini e trascinarli con loro in acqua per ucciderli. Bellissimo poi che citino pure la famosa ship fra Calamaria e Magman, considerando che va avanti già da un bel po' tra i fan. Un altro boss che questa serie mi ha fatto completamente rivalutare è stata la baronessa Von Von Von. Nell'unico episodio in cui appare sono stato davvero contento di vedere come l'abbiano caratterizzata. Persino l'accento con cui parla mi è piaciuto davvero tanto, è stata praticamente l'unica puntata che ho visto in originale. La doppiatrice, per essere al suo primo lavoro, ha fatto un lavoro incredibile. Dai come si fa ad odiarla? Persino l'episodio di Werner Vermann è stato fenomenale. Se le altre puntate per certi momenti mi ricordavano i vecchi episodi dei Looney Tunes, questo potrebbe essere stato preso tranquillamente da Tom e Jerry. Mi ha fatto strano vederlo così piccolo, lo ammetto, però riflettendoci ha senso, è un ratto, il che mi ha fatto pensare, perché nel gioco è così grande? Siamo noi che ci siamo rimpiccioliti? Vogliamo parlare poi del personaggio migliore della serie, Magman? Guardando anche la prima stagione l'ho sempre preferito, sia perché Caped da noi ha una voce che considero troppo acuta e che alla lunga può stufare, sia perché Magman fa le facce. Vi giuro, sono una più bella dell'altra. Ripeto poi che Davide Garbolino secondo me ha fatto un grandissimo lavoro, la sua voce è decisamente perfetta. Ma tocchiamo un altro punto importante. In questa stagione la trama si sviluppa di più rispetto alla prima? Eeeh, nì. Avevamo lasciato Caped e Magman in prigione nel finale della prima stagione, e ovviamente il primo della seconda mostra come fuggono, con tra l'altro numerosi riferimenti al gioco, come la ciclope, sì, a quanto pare una femmina, che ci insegue in uno dei livelli run and gun della terza isola. Ma oltre a questo non è che succeda molto altro se non nell'ultima puntata. Anche questa è un cliffhanger per farci attendere la terza. Satanasso ti prego non fare nulla Magman, ti scongiuro! Alcuni personaggi hanno avuto un'evoluzione a livello caratteriale, più o meno. Magman e Satanasso si vede che sono un po' diversi, mentre Caped rimane sempre un incosciente e troppo avventato. Quello che mi ha fatto un po' scocciare è stato vedere come in alcune puntate lui non faccia assolutamente niente, e i problemi vengono risolti dagli altri, come nella puntata in cui Caped e Magman si perdono nella foresta e non solo tornano a casa praticamente illesi, ma il legno che Caped doveva tagliare per punizione era già stato tagliato da nonno Bricco. Chissà se ora che Satanasso ha preso Magman cambierà pure lui. Anche Chalice, che speravo sarebbe apparsa molto di più, compare poco, e nemmeno hanno spiegato il perché possa trasformarsi in un fantasma. Nella serie sembra avere una personalità ed un'origine diversa rispetto al gioco. Pensate ad esempio che può passare tranquillamente dal piano strale a quello normale senza avere bisogno del biscotto, e può anche possedere le persone. Quindi è possibile che possano darle un'altra evoluzione anche a livello caratteriale. Vorrei sperare che venga spiegato in un'eventuale terza stagione, ma ho come il presentimento che non succederà. Bello comunque vedere come nel secondo episodio facciano riferimento all'ultimo della prima stagione, ossia che gli abitanti dell'isola Calamaio abbiano capito che Chalice li stesse fregando. Quanto meno ogni puntata non sembra sconnessa l'una dall'altra, escludendo ovviamente i primi e gli ultimi episodi. Una cosa poi che ho notato molto diversa rispetto alla prima stagione è che in questi episodi c'è molta più violenza. Da Magman che letteralmente distrugge le gambe a Brinybeard costringendolo a camminare con due gambe di legno, capiamo quindi come mai le abbia, e devo dire che mannaggia, a nonno Brico che cerca di mangiare i due fratelli tazza, e che in una puntata si trasforma in una sorta di persona indemoniata e si muove al contrario. Io onestamente ho adorato questa stagione proprio per tutta questa azione in più, però può anche essere che a voi non piaccia così tanto. Fatemi sapere cosa ne pensate. La comicità poi l'ho apprezzata davvero, sarò stupido io, ma mi sono messo a ridere praticamente in ogni puntata. Da battute come Magman e Mailman, e Mailman e Magman, al fatto che Ludwig, bello tra l'altro che abbiano preso un NPC della terza isola e gli abbiano dato un ruolo abbastanza rilevante, chiami Magman Moogman, al ritorno di Chotoboy che è letteralmente un pazzoide, al jingle del camioncino dei gelati rallentato. Se la guardate a mente spenta, sono sicuro che qualche risata potrebbe strapparvela. Vorrei citare anche il fatto di come abbia apprezzato tantissimo che in alcune puntate abbiano usato delle host prese dal gioco, come Carnival Kerfuffle nell'ultimo episodio. Sicuramente hanno contribuito molto alla resa finale. Ovviamente poi non sarebbe la serie di Cuphead senza riferimenti ai cartoni degli anni passati, ed anche qui gli easter egg non mancano. I miei preferiti sono stati sicuramente l'espressione che Magman fa dopo aver battuto il granchio gigante, che è ovviamente presa da braccio di ferro, e una scena che, non sono sicuro al 100%, ma mi è letteralmente sembrata tirata fuori da Topolino e il fagiolo magico. Sapete no, quella dove Topolino affetta l'unico fagiolo rimasto per condividerlo con Paperino e Pippo. Detto questo, mi è spiaciuto non aver visto molto Satanasso e, soprattutto, Reddado. Interessante come abbiano fatto vedere che Cuphead oramai non debba più la sua anima a Satanasso. Però avrei voluto vedere di più questi due personaggi, considerando che sono praticamente i due antagonisti principali. Speriamo di vedere più cose nella terza stagione, sempre se ci sarà. Per il resto, altri difetti non mi sembra di averne trovati. Ma voi ditemi, la seconda stagione vi è piaciuta di più della prima? Oppure no? L'avreste realizzata in modo diverso? Avreste voluto vedere altri boss? Chissà soprattutto se vedremo mai anche i boss del DLC ora che è uscito. Fatemi sapere tutto qua sotto nei commenti. Io nel frattempo vi ricordo di mettere un mi piace se il video vi è piaciuto, di iscrivervi al canale se ancora non l'aveste già fatto e di attivare la campanella qui sotto, così da non perdere aggiornamenti sui video futuri. Noi ci rivediamo alla prossima. Bella!